Ciao Eleonora, ti chiedo un commento sulla partita e le sensazioni provate per il gol. Sensazioni sicuramente positive, ma più che altro per la vittoria e per il riscatto da un primo tempo nel quale siamo state sotto tono rispetto ai nostri standard e alle nostre capacità. Però questa squadra dimostra sempre di essere forte in tutti i 95 minuti. Anche oggi abbiamo provato a casa i tre punti con onore, in casa, davanti a tanti tifosi, quindi non si può che essere contenti. 6 su 6, come vi sentite a livello di morale e questa Lazio può battere tutti? Questa Lazio può battere assolutamente tutti, a livello di morale stiamo bene, si lavora serenamente, in grande crescita, ci sono ottime potenzialità e tanti margini di miglioramento, quindi si lavora veramente bene. Eleonora, ti abbiamo visto anche l'anno scorso qui a Tersini una volta, quando ancora non eri una calciatrice della Lazio. Ti chiedo quanto è evoluto questo progetto e quanto credi, visto che hai già calcato anche i campi di Serie A, che questa squadra possa competere in futuro nel massimo campionato? Credo tantissimo nel progetto Lazio, motivo per il quale l'ho abbracciato quest'anno. è un club, è una società, è una squadra, ci sono individualità capaci di competere contro ottime squadre, anche di Serie A, quindi io credo fermamente che meritiamo il livello più alto e meritiamo anche di fare molto bene. Grazie a te.